e se mi servono di cecchino scusa? si ma non so hai visto il cerchio quanto grande era scusa? che cosa diceva il cecchino quel punto lì? mi serve niente più il cecchino lì alla fine non ti serve più il cecchino lì ancora lì? spari a uno a un metro di distanza con il cecchino dove volete andare decidete voi cazzo almeno puntate santo addio io so che dovete fare le sfide faccio puntare a voi se magari puntarsi un po' prima ma qualcuno non ti ha buttato? mi sono buttato perché sto pulendo il pezzo ebbè a parte che non vengo dove punta tecna perchè quella punta sempre in ritardo rompi coglioni di merda ora che a terra sei già morto mi farisco da beh però tu vai da dove c'è la gente? c'è nessuno no ma scusa ma c'è uno dove c'è punto in punto no? c'è uno dove c'è uno c'è uno dove c'è uno e noi passiamo sopra con il bus con la buzze no? ma lei che muore no? poi punto in dietro lei cioè in dietro si è già atterrati noi siamo ancora due ancora portieri ragazzi per favore calma c'è l'arma 4 verde che lo vuole? lei è un modo per perdere da mangiare come tu mamma la migliorata che possesiste penso che sono un buon cuore carriola alla prima casa amato amato odo per favore e poi c'è il tito n come io coba rai a 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 rai documento capo quello scappano guarda che roba ti difendo io ala peccato il cittadino ora l'avrata ma l'avrata buona sotto ragazzo battuti no c'è il terzo però c'è una figa lo facciamo gli spazi ho battuti 300 persone io ho battuti 3 se finiscono più è pazzesco sono infiniti sono infiniti ma io non ho parole ma non lo piglia oh ma vaffanculo ma mi hai messo non sparare a me sto aiutando sto aiutando ma scusa ma non lo faccio è aiutando un parolone non ti preoccupare per il meditit già ne ho uno ok non ti preoccupare per il meditit non ti preoccupare non ti preoccupare non ti preoccupare non ti preoccupare ma cos'è che stai sparando a me ma cos'è che stai facendo me lo spieghi mi togli la copertura non mi togli porca troia c'è la nave no c'è la nave perchè non non mi punti dove stanno ma guarda dove sparano anche ma poi erano tutti i botte ehm quella sta spuntata all'ultimo quella non era un botte ma come sei morto e noi siano tutti i botte no dopo sono spuntati altri due però ho detto c'è la nave puntata mi puntata si è stato uno che avesse puntata una volta 6 decisioni ho fatto ah io ne ho fatto 5 ehm si vuole ehm vuoi degli scuadini c'è kit qua c'è kit vieni vedialo lì si gioca ragazzi non c'è altro sistema ehm se ti ho puntata dove c'è la gente se vuoi venire a sparare ehm adesso sono uscito dall'altra nave una volta io c'ho solo 3 colpi di assalto e basta non c'è più niente eh ah guarda ma so maledetto vabbè ormai lo fido eh prendo l'identificatore mi fa strambo facciamo munizione o no? no ehm ehm quella fatica che ho fatto per uccidere ah ah mio fratello mio fratello che ti ha mortato nooo nooo ma vabbè ma vabbè ma vabbè che mi ha rubato dai sacci dammi il pesce dai non c'è niente che mangi il pesce che tanto smuoni dopo due secondi io sono un gatto i gatti mangiano pesce che ridere ho trovato prima il pesce ho trovato prima io comunque è qualche problema ci sta il coso degli scudi quindi se vuoi valla vai a prendere qualcosa dal qua eh no è chiuso vedi che è chiuso ma che è che ha fatto è aperto no dico non puoi chiudere no se è baggato eh la fammi qua tanto soppertare infatti come è un caso in chi è che ha scherzo quando sparo eh eh se lo spai lo faccio su lui io per forza dito se mi sopperti di nuovo oddio c'è di nuovo eh comunque tanto tecna è sempre full io sempre senti scusa non è un caso non è un caso che io uccido sette persone più zero e ho qualcosa è un bel lutto sai persone finte non è un caso ma giocchi io a due li ho distratti perché hanno sparato al mio alluncio poi è intelligente cioè non è un caso se le trovi tutti i spugli eh non è un caso dai eh non è un caso poi di un programma è che questo no vieni che ti do gli scudini almeno vieni vicino a me se vuoi qualcosa no 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 ormai mi sono fatto gli scudini non sei scemo eh vizio tengo la demiscarro la macchina più veloce del mondo è chiaro di voi eh eh vizio tengo la demiscarro la macchina più veloce del mondo non sei perchè non c'è tempo meredetti vieni da me io prendo la macchina più bella del mondo vengo io vengo io ah no ma che giusto io vado via ciao ciao tessna che uai zoom ma ciao che rumore ha fatto questa macchina ah quella della polizia questa ma che rumore è basta ma che cazzo stai facendo ma nooo non sono stato più veloce ragazzi uiii nooo è quello? signore ma guarda che non può salire che bella funzione qua sta un macchino 1 2 3 via wow dai pittà ah vabbè che affaro ragazzi non sai che non sai che faccio segnalare gli amici dove tecna guarda già ma vedi tecna ah vedi tecna ragazzi abbiamo qualcosa che non vuole fatto diventare ad una persona normale un albero allora sei scemo no volevo sapere qual era il mio cibo preferito insomma io sono un gatto curioso bello sto balli ce l'ho eh siamo distantissimi vai ma che c'è di io che non mi piacerebbe lì e c'è l'altro ballo ancora prima mia basta finissima arriva sa sei ciao mi prendo la demiscarola ragazzi funziona no ma c'è bisogno di capire ti ho già raggiunto eh ci dai la jump al minimo eccoli io non capisco perché c'è l'invitatore più girato del mondo io non capisco perché solo io trovo da gente voi mai trovate gente vedete dietro dei botte trovati però meglio le tante ma l'altro mi ha sparato con la io non c'è la vicenda cos'è? ahahah ahahah che cosa è successo? siamo diventati delle palline da ping pong ragazzi bobo bobo c'è delle bobo i gang non c'è ma la seconda cosa mi ricorda mi ricorda fall guy non so perché precisamente non è un slime questo ma cosa serve? non serve che è un'altra cosa però la storia è una cosa non è un'ora non è un'ora perchè infatti che cosa pensano ehi ladra ladra no so che nel video sei milice wie reign ho capito con questo cosa non posso sparare muoviculetecco non conviene più mi hanno rubato la macchina non ho fatto la macchina non ho provato di scoppe oltre sono stato loro fissi muo per un secondo no potrò dato di punzioni tecna non non ho colpiamo qualcuno ce li è colpi pompa e cosa vuoi le monizie? no c'è quello che fa le uova di cosa le vuoi le monizie? eh di tutto ah aspetta ti tiene i colpi pompa? eh non ne ho tanti colpi pompa non ne ho tanti colpi pompa un zucchino vai e guida sta macchina qua ma c'è gel aspetta aspetta fammi la sassi ma che c***o vai la sta macchina neandro ma che fai? vai la sta macchina no c'è gente che ha sciso il sassi ovviamente voi mi hanno ignorato sassi è morto come le fai a morire se non c'è nessuno? no c'è gente dove? dove? eh gli hanno rubato la macchina gli ha fatto il 31 event vai barboli e' giusto e' giusto e' giusto ma ma l'ho rubato la macchina e' giusto poi la lascio da noi e' giusto e' giusto e' giusto e' giusto e' giusto e' giusto vare ma quello è maledato ma poi no ma non andare dentro 25 e' craccata e' craccata e' cracca il kraken il kraken 26 bianco di un coglione mi ha dato un uccisione forse è morto si si è morto se non vado a prendere la roba vado a prendere anche la scheda di ma io ce la faccio no non ho se ah beh si si può restare no non ci arrivo più alla scheda dispiace ma niente mi servono cose come si chiamano è partita non puoi dare che qui qualcuno è fregato c'è lama c'è lama ma si è morto io non ho sparato aspetta lo vado lo vado lo vado lo vado lo vado via 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 vai 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 i materiali si ma sta roba è stra lenta non ce la fai curati leandro ammazza lo ammazza ma chi è dai è deficiente ti sto sparando no vieni qua pusha che aiutami ma che gente no ma sono più di uno oh vado ma muore madonna vede scaricato giocatore 4 3 2 2 1 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 9 10 10 10 11 11 11 11 10 12 11 12 15 15 15 16 15 15 16 15 15 WTF?